E' grande il cordoglio per la morte del Papa Emerito Benedetto XVI. A Roma abbiamo incontrato Monsignor Vincenzo Zani, bresciano, consacrato in San Pietro il 6 gennaio del 2013, dieci anni fa, proprio da Benedetto XVI. Monsignor Zani oggi è archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa ma ha un lungo servizio nella Congregazione per l'Educazione Cattolica della quale è stato anche segretario per dieci anni. A Monsignor Zani abbiamo chiesto di ricordare proprio a dieci anni dalla sua ordinazione le parole del Papa Emerito Benedetto XVI. Io direi che soprattutto l'omelia che tenne in quella occasione e che io ho riletto più volte, un po' perché mi riguarda ed ecco certamente devo commisurare la mia funzione su quello che è stato detto dal Pontefice in quell'occasione a me e agli altri tre ordinandi che erano appunto il suo segretario Monsignor Georg e due Nunzi Apostolici. Leggendo e rileggendo quel testo mi sembra quasi di vedere una sintesi, di trovare una sintesi un po' del pensiero e della personalità del pastore, dello studioso che è appunto è stato Josef Ratzinger, poi Benedetto XVI. Ed è straordinario perché appunto lui parte dalla festa dell'Epifania parlando dei magi e racconta l'avventura di questi tre personaggi e parla appunto del pellegrinaggio che tutti facevano a Gerusalemme e del pellegrinaggio che anche queste personalità hanno voluto fare ma un pellegrinaggio molto particolare perché personalità che venivano dall'Oriente espressione dunque da un mondo culturale evoluto saggi, sapienti, uomini di cultura che non erano sazi della loro cultura ma erano curiosi e desiderosi di cercare quindi è un viaggio di ricerca la ricerca, la ricerca la stella, lasciarsi guidare dalla stella a un certo punto io vedo la sua personalità dietro e dice, sai, questi saggi che si sono messi in cammino probabilmente sono stati anche derisi dalle persone per dire, ma come? Voi sapete tutto dove andate? Cosa andate a cercare? quindi il coraggio che hanno avuto queste persone che erano l'espressione del sapere di allora però cercavano qualcosa di più qualcosa che va oltre quindi ecco il discorso che sempre lui ha sottolineato la trascendenza, il valore della trascendenza non avere paura di cercare qualcosa che va oltre perché questo non mortifica quello che tu sai ma valorizza quello che tu sai quindi valorizza il sapere che esiste appunto queste tre persone che esprimono le genti, i popoli, le culture diverse che non devono aver paura di confrontarsi con la trascendenza e allora poi dice, ma chi sono queste persone? ricordo l'omelia e dice, beh, erano persone inquiete cioè che non erano soddisfatte del loro sapere non erano serene, tranquille ma cercavano qualcosa che potesse comunque farli progredire farli andare oltre ecco allora lì ha insistito molto sull'inquietudine e questo poi lo applicava alla figura del pastore, del vescovo ecco che deve essere un uomo preparato che non deve stare in mezzo al popolo in cammino anzi stare davanti come guida e deve essere animato da questa sana inquietudine di cercare Dio che è presente e che è la verità che è la risposta alle domande dell'umanità e che ha il coraggio il coraggio di farsi strada di andare avanti e di invitare anche le persone a questo cammino dunque per me il ricordo di quella giornata è straordinario nel senso che ho cercato di fissarmela nel cuore e nella mente perché tutti noi siamo comunque chiamati lui diceva poi voi quattro vescovi avrete funzioni diverse infatti ciascuna di noi funzioni diverse ma questo è il cuore del vostro episcopato e quindi potete immaginare come questo è stato custodito nel cuore poi non pienamente realizzato perché siamo tutti in cammino evidentemente e quindi anche questo mio trasferimento in un nuovo ambiente come questo aumenta l'inquietudine deve aumentare l'inquietudine quella sana inquietudine che non ti fa sentire mai arrivato insomma in questi anni di servizio sono tante le occasioni in cui Monsignor Zani ha avuto modo di confrontarsi sui temi della scuola e dell'educazione proprio con Benedetto XVI è chiaro che abbiamo davanti una personalità straordinaria credo che nella storia insomma Papa Benedetto è un Papa un po' unico nel senso che è un grande teologo un grande studioso che ha vissuto il concilio il tempo del concilio che è stato chiamato poi da Paolo VI e tutto il periodo di Giovanni Paolo II in fondo per attuare il concilio perché tutto è alla fase al 77 e quindi e diciamo che la perla preziosa diciamo nel suo lavoro una delle espressioni migliori del suo servizio alla dottrina della fede è stato il pluriennale percorso di preparazione del catechismo della Chiesa Cattolica come l'espressione sintesi delle linee del concilio Vaticano II quindi questo a me risultava prima di diventare sottosegretario e poi anche quando sono diventato sottosegretario ecco avere davanti ecco quello che ha guidato quel lavoro lì che ha orientato e soprattutto che aveva collaborato molto con Giovanni Paolo II nella stesura della Fides et Ratio è proprio l'espressione diciamo della sua figura insomma ecco della sua personalità ora come cardinale io l'ho incontrato 4-5 volte personalmente e soprattutto l'ho incontrato nelle riunioni plenarie perché la nostra congregazione allora aveva 30 cardinali nominati dal Papa come membri della congregazione e i cardinali si incontrano i membri delle congregazioni almeno la nostra ogni due anni si incontrano tutti insieme per tre giorni a discutere tutte le tematiche le problematiche che sono in corso allora avevamo anche tutti i seminari da seguire i seminari le scuole cattoliche le università cattoliche le facoltà ecclesiastiche quindi sono giornate di una densità unica ecco e lui era il cardinale più anziano quindi intorno al grande tavolo stavano i 30 cardinali e i 5 arcivescovi lui era il primo era il primo che doveva prendere la parola perché si va sempre secondo l'anzianità è chiaro che il suo intervento era sempre illuminante e illuminato poi si metteva in un ascolto abissale degli interventi di tutti gli altri cardinali il cardinale Martini il cardinale Biffi che erano presenti i grandi cardinali anche più importanti degli altri continenti quello di Parigi poi gli Stati Uniti e così via e alla fine lui ridomandava la parola e dice io ho detto il mio pensiero all'inizio ma io ringrazio faceva passare quasi uno per uno perché da lì ho accolto questo aspetto questo aspetto questo aspetto e racconto questa piccola esperienza per dire la straordinarietà di quest'uomo che con la sua grande intelligenza entrava subito in media stress nel problema che veniva trattato ma un silenzio interiore una umiltà nell'accogliere i contributi anche di altri di altri vescovi e cardinali magari meno preparati di lui per certi aspetti che però portavano un senso delle chiese particolari ecco questo per me è l'immagine del cardinale Ratzinger del cardinale Ratzinger che poi diventando papa ha continuato e lì vediamo negli insegnamenti del suo pontificato diciamo alcuni passaggi fondamentali che i documenti principali soprattutto le encicliche la Deus Carita Sest la Spe Salvi lui puntava sulle sulle virtù cardinali in fondo no? le tre virtù cardinali e poi la Carita si inveritate e quindi ecco da lì il catechismo della Chiesa Cattolica e poi ha puntualizzato questi tre o quattro passaggi molto forti e ricordo bene che nel 2011 ci chiese ci chiese di ricordare nel 2015 i 50 anni della gravissimum educazionis della dichiarazione conciliare gravissimum educazionis ecco che preparammo e poi lui si dimise e quindi non fu più lui in quel momento ecco ma devo dire che negli insegnamenti di quelle encicliche troviamo i nuclei fondamentali che poi sono stati ripresi da Papa Francesco nei suoi documenti in modo particolare la Laudato Si e la Fratelli Tutti perché nella Caritas in Veritate sono ben presenti i temi della ecologia e della Fratellanza Universale quindi ecco poi in modo particolare per quanto riguarda il settore in cui lavoravo io prima il tema della ragione del pensiero della riflessione della ricerca dell'indagine era molto da lui sottolineato ed era un input fortissimo per gli studenti per i docenti per le riforme che poi sono state messe in atto e che sono poi confluite nella Veritatis Gaudium la Costituzione Apostolica sulla revisione degli studi che è a firma di Papa Francesco ma è chiaro che dietro c'è tutto il pensiero di Papa Ratzinger soprattutto laddove diceva invitava a dilattare gli orizzonti della razionalità non aver paura di dilattare gli orizzonti della razionalità più dilati gli orizzonti della razionalità più sei concreto sei concreto cioè affronti la realtà entri nella realtà quindi queste sono le cose che io ricordo in modo particolare perché sono diciamo piste di ricerca e di approfondimento che accompagnano tutte le istituzioni e di ricerca e di ricerca e di ricerca